grazie presidente allora oggi mi spiace ma io il biglietto per quest'altro teatrino non mi va proprio di pagarlo nel senso lo spettacolino sta per finire su questa faccenda della clausola di salvaguardia quindi pesate questi sono sono gli spettacoli che piacciono alle persone davanti e dietro cortesemente che dal pubblico di fare silenzio al consigliere calabrese di entrare nel merito dell'intervento dell'ambito della delibera questa è la vostra democrazia è la vostra democrazia scusate al pubblico per favore grazie il pubblico faccia silenzio grazie grazie nell'ambito della delibera di piazza dei mediatori ho già avuto modo di consigliere fare questo parallelo con la mondialità che pone don camillo 2.0 da parte di questi precedenti amministratori per cui ogni anno che amministravano loro si facevano sempre la guerra rispetto a la volontà che delle cose che voleva fare uno e il contrario delle cose che voleva fare l'altro però ogni volta andavano a provare degli atti che oggi ci ritroviamo tutti quanti noi in consenziosi amministrativi tutti quanti noi ce li ritroviamo tutti noi in base a dei contenziosi amministrativi che non hanno garantito nessuna tutela occupazionale nessun servizio nessuna tenuta del bilancio un disastro immenso quando non avete fatto gli atti quando non avete fatto gli atti quando non sono stati fatti gli atti siete andati in proroga in proroga per decenni per decenni adesso venite a dire a noi venite a dire a noi che non ci prendiamo la responsabilità di fare una delibera però consigliere calabrese ma voi le delibine su questa roba non le avete mai fatte siete andati sempre in proroga lo capite o no? il coraggio per affrontare la legalità non ce l'avete mai avuto avete le sentenze e le celle dei tribunali piene di gente che sta in carcere consigliere per gli affidamenti diretti che avete dato alle persone alle aziende e adesso ci venite a rinfacciare i bambini che sono in pericolo ma quei bambini dei padri che hanno perso il lavoro delle aziende che sono finite dentro Mafia Capitale ma quelli ma chi li ha tutelati? ma chi li ha tutelati? ma avete una faccia, una vergogna che veramente ci vuole un coraggio per venire qua e sovvertire completamente il quadro istituzionale le leggi nazionali le avete fatte voi le avete fatte voi lo state dicendo anche adesso ci stiamo adeguando alla normativa vigente quando avevamo promesso di fare quando avevamo promesso di fare di andare verso l'internalizzazione siete dei fascisti non mi state facendo parlare siete dei fascisti consigliere calabrese basta basta come ho ricordato siete dei fascisti non fate parlare consigliere quando uno vi dice la verità avete raccontato un falso tutto il giorno un tatrino uno schifo tutto il giorno si è togliere consigliere 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 consigliere